Professor Luciani, oggi seminario di approfondimento sul tema dell'autonomia differenziata, sull'iter in corso, promosso e organizzato dalla Conferenza delle Regioni. C'erano gran parte dei rappresentanti delle istituzioni regionali. Che sensazione ha avuto al termine del dibattito? Innanzitutto ha fatto molto piacere partecipare, è molto interessante la discussione, devo dire, vedere le varie posizioni. Credo che alla fine sia emersa una posizione tutto sommato cauta, moderata, di attesa, per vedere se le scelte che poi in concreto saranno compiute saranno effettivamente compatibili con l'immagine di fondo che deve avere il nostro regionalismo. C'è un certo consenso sull'idea che il regionalismo, anche differenziato, non debba mettere in discussione il principio solidaristico e credo che questa sia la strada da percorrere.